Si chiama Idee del nuovo percorso didattico ad indirizzo tecnologico per l'innovazione digitale e l'educazione ecologica che sarà attivato a partire dal prossimo anno scolastico nell'Istituto Comprensivo Casale di Brindisi. La novità sta nel fatto che per la prima volta una scuola secondaria di primo grado, la Kennedy nel caso specifico, traccia un percorso condiviso con un istituto secondario di secondo grado, cioè l'Istituto Majorana. Le due scuole, insomma, già vicine di casa perché si trovano nello stesso quartiere, diventano vicine e per certi versi anche conseguenziali nelle proposte formative. Affirmare l'accordo di collaborazione i dirigenti scolastici Maria Vittoria Caprioli per l'IC Casale e Salvatore Giuliano per il Majorana. Vorrei realizzare finalmente e realmente quel curriculum verticale tra scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado per permettere ai nostri alunni preadolescenti o adolescenti di avere un attimo la visione più chiara e soprattutto di permettere loro di essere protagonisti del loro futuro, delle loro scelte scolastiche future e di essere cittadini attivi per questa transizione digitale ed ecologica. Con una battuta potremmo dire che da oggi non sarete soltanto vicini di casa ma anche vicini nella scelta del percorso formativo o meglio nella proposta del percorso formativo agli studenti. Sì, nasce una sinergia ancora più forte fra due istituzioni scolastiche del territorio brindisino. Per quanto ci riguarda come Majorana di Brindisi metteremo a disposizione il nostro know-how su le discipline scientifiche e tutte le discipline che sono afferenti ai temi della transizione ecologica e digitale.